Vai! Approfitto oggi con questo video, in questa splendida località che è Ognina, la marineria di Ognina e il porticciolo di Ognina per dire che la Federazione Armatori Siciliani ha in atto un progetto per la valorizzazione dell'educazione ambientale e dell'educazione alimentare. La prima fase partiremo con l'educazione alimentare. È importante una corretta alimentazione, è importante mangiare ogni giorno frutta, verdura, pesce, carne, tutto, ma in maniera equilibrata. Oggi voglio dire a tutte le persone che aderiscono alla nostra idea, invito a tutti quanti a mandarci un video quando loro preparano un piatto, qualunque tipo di piatto, dal più semplice al più complicato. Fare un video di 2, 3, 4, 5, 10 minuti, ovviamente che non deve essere bellissimo. E ci descrivete cosa state preparando in quel piatto, in quella ricetta vostra, che è una ricetta vostra preferita, una ricetta tramandata, una ricetta perché vi viene semplice, eccetera. E poi alla fine del video vi dire autorizziamo, autorizzo, la Federazione Armatori Siciliani a pubblicare questo video. Il video che otterrà più visualizzazioni, più, come dire, interesse, avrà un premio che attualmente non posso stabilirlo perché non so quest'idea, quest'iniziativa, che tipo di successo potrò rispondere. Ma è chiaro che se il nostro portale che stiamo creando, che si chiamerà piacere, sapori e capricci, in questo portale dove inseriremo tutti questi video, è chiaro che avendo successo voi stessi che siano i protagonisti, vi renderete conto del successo. E il video più complicato sarà la nostra premura a condattarlo per dargli un premio pubblico. Grazie.